Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Allora, 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 è terminata da pochi istanti la partita a Empoli. 1-1, per me il risultato è giusto ragazzi, per me il pari è il risultato giusto. Tutte e due le squadre hanno avuto occasioni e non sono riuscito a sfruttarle, quindi secondo me è giusto il pareggio. Innanzitutto, prima di parlare della partita vorrei fare i complimenti ai tifosi della Salernitana. Ragazzi, state facendo, mi riferisco proprio direttamente ai tifosi della Salernitana, un lavoro incredibile. Come state trascinando questo gruppo, è una roba, c'è proprio una gioia per gli occhi. Non so se avete visto dietro la porta di sé per il secondo tempo quanti tifosi della Salernitana erano presenti. Incredibile, non pensavo a una roba del genere, onestamente. Quindi, tanto di cappello, bravi, bravi, bravi. Boh, detto ciò, andiamo alla ciccia. Allora ragazzi, l'Empoli l'ha sbloccata subito con Patrick Cutrone. Tra l'altro il suo coteto per lui. Gol di Cutrone. E l'Empoli, diciamo, riuscita a gestire abbastanza bene il risultato, anche abbastanza, a mio avviso, agevolmente. Grazie ai ritmi piuttosto bassi. È vero che la Salernitana ha avuto qualche occasioncina, non è stata nemmeno troppo fortunata, però un po' poco per quello che era il valore e l'importanza della partita per la Salernitana. Nel secondo tempo però, ragazzi, altra partita, altro ritmo, tante occasioni e partita molto più divertente. Una Salernitana che ha provato in tutti i modi a pareggiare questa partita, però rischiando, rischiando di prendere il secondo gol, perché ha rischiato in più occasioni, Cutrone ha preso un palo, alcune scelte non opulate da parte del reparto offensivo dell'Empoli. Quindi sicuramente, sicuramente in questo senso è andata bene alla Salernitana, che però, come al solito, con tanto cuore, con tantissimo cuore, ci prova e trova sulla sua strada Vicario, ragazzi, che ha fatto un partitone. È vero che poi ha fatto un errore che ha portato al gol dell'1-1. Tanto Bonazzoli si è dovuto comunque inventare quella rovesciata, però, ragazzi, c'è cosa lì si può dire oggi a Vicario. Ha fatto una parata allucinante da un metro e mezzo su Bonazzoli, sul colpo di testa. Ha fatto una doppia parata allucinante, anche lì, direi, colpo di testa di Juric. Paratone, palla che finisce nei piedi di Bonazzoli, che da un metro tira, colpo sicuro. Vicario la riesce a prendere con i piedi e la devi in angolo. Angolo da cui poi scaturirà il suo errore e il gol della Salernitana. Ragazzi, io ve lo dico chiaramente, se questi interventi li avesse fatte Donnarumma, continueremo a vederli per i prossimi sei mesi, questi interventi. Una roba allucinante quello che ha fatto oggi di Cari. Veramente, secondo me è anche un portiere un po' sottovalutato per quello che è il suo valore. Quindi, tanti complimenti a lui, perché se l'Empoli comunque non ha perso, è merito suo. D'altro lato, anche complimenti a Sepe, perché ha fatto un paio di interventi importanti, ragazzi. Veramente importanti. Quindi, per questo vi dico, è giusto, a mio avviso, al pari. Poi, poi, la Salernitana, dopo aver trovato gol, appunto con questa bellissima rovesciata di Bonazzoli leggermente alleviata dal difensore, ha continuato a insistere. Rischiando, ripeto, ancora di prendere gol. Ma perché questo? Perché, secondo me, oggi l'assenza di un giocatore come Boinen non ha permesso di dare il giusto equilibrio in quel momento di sfinta al centrocampo della Salernitana. Boinen, ragazzi, è un giocatore veramente importante per l'equilibrio di questa squadra. Veramente, veramente importante. Nella prossima ci sarà e non ci sarà invece Ederson. E anche quella sarà un'assenza un po' pesantuccia, ragazzi. Obiettivamente sarà un'assenza pesantuccia. Detto ciò, detto ciò. Pochi, poco dopo il gol dell'1-1, arriva il calcio di rigore per Perotti. Un giocatore, ragazzi, è un bel giocatore. Ormai a fine carriera, ormai con gli acciacchi. Un rigorista forte. Ha sbagliato il rigore. Può capitare. L'ha sbagliato certo in una partita importantissima. È stato emozionante, onestamente, vederlo in lacrime in quella maniera, buttato per terra con i suoi compagni che sono andati a consolarlo. Io ho son dell'idea che questo tipo di rigori andrebbero tirati centrali. Perché è rarissimo che un portiere non scelga di tuffarsi. Però ragazzi, da casa siamo tutti più bravi. E va bene così. C'è poco da dire. Gliel'ha parato, è stato bravo vicario. Pazienza. Spiace, perché la serenità da quel punto avrebbe messo veramente una seripoteca sulla salvezza. Invece adesso così dovrà aspettare e vedere cosa succederà domani. Io, allora ragazzi, voglio essere chiaro. Per me Cagliari non batterà l'Inter. L'Inter è vero che viene da dei tempi supplementari in settimana, ma non posso pensare che un Inter che si sta giocando lo scudetto vada a perdere a Cagliari. Posso anche immaginare un pareggio proprio nel peggiore dei casi, ma onestamente che perda mi sembra. E' eccessivo. E il Genoa deve andare in casa del Napoli. Squadra con cui era gemellata. Adesso mi risulta, non vorrei dire una fesseria, però mi avevano detto alcuni amici che tifano per il Genoa che si era interrotto questo gemellaggio. Però non ve lo do per certo. Sicuramente fino a poco tempo fa, o comunque non molto tempo fa, erano gemellate. Io sono onesto. Io mi aspetto che anche lì un Napoli che non ha più niente da chiedere comunque faccia la sua partita e nell'ultima d'insigne in casa cerchi comunque di fare la sua prestazione davanti ai suoi tifosi. Cioè, se dovessi vedere un Napoli che perde in casa con un Genoa, onestamente un po' di puzza di biscotto... Ecco, mettiamola così. Se il Napoli dovesse perdere domani contro il Genoa, dipende come perde. Un po' la puzza di biscotto la sentirei. Un po' quell'odorino di biscotto lo sentirei. Onestamente, onestamente. Spero, spero che non accada. Perché io, ripeto, io vorrei che si salvasse la Salernitana perché tra le tre se lo merita di più. E qui, ragazzi, voglio fare una puntualizzazione. Perché ogni tanto mi scrive qualcuno del Cagliari, qualcuno magari che si risente, tra virgolette, un po' perché io dico che voglio che si salvi la Salernitana. Ragazzi, io sono un tifoso di questa squadra qui, va bene? Amo folemente la mia squadra, quindi non c'entra assolutamente nulla. Io, ripeto sempre, uno può avere delle simpatie, delle antipatie, però, come sono fatto io, io mi baso molto sulla stagione, ok? Questa stagione la Salernitana mi sta regalando delle emozioni che il Cagliari, il Venezia o il Genua o non so chi non mi ha regalato. L'anno scorso, per esempio, mi aveva regalato delle emozioni lo Spezia. Quest'anno me le sta regalando la Salernitana. Questo non significa che io sono un tifoso della Salernitana. Significa che spero che la Salernitana si salvi. Questo non significa che se dovesse farlo prossimo anno io sarò un tifoso della Salernitana. Vi dico che se ci sarà Nicola mi farebbe piacere vederla salvare, questo sì, ma mi baserò su quello che succederà il prossimo anno. Se, secondo me, il prossimo anno la Salernitana non dovesse essere all'altezza, di rimanere in Serie A, e non dovesse emozionarmi o ci dovesse essere una squadra in lotta con la Salernitana per salvarsi e l'altra squadra mi emoziona di più, dirò che l'altra squadra mi emoziona di più. Io però cerco sempre di parlarvi, anzi, sono sicuro di farlo, dicendovi sempre quello che penso, quello che sento, raccontandovi le mie emozioni, anche perché sennò non avrebbe senso questo canale. Cioè, io cerco di trasmettervi quello che io sento. E io sento questo, io sento che la Salernitana, come squadra, come staff e i suoi tifosi, si meritano questa salvezza. Punto. Semplicemente. Ma questo non significa odiare il Cagliari, avercela con i tifosi del Cagliari, con i giocatori del Cagliari. No. Io esprimo delle critiche se mi sento in dovere di farlo, faccio dei complimenti se mi sento in dovere di farlo. Cioè, ad esempio, in questo video, ho detto che sono contento per il gol di Cutrone. Eppure, ha fatto gol alla Salernitana, ragazzi. Quindi io cerco sempre di essere molto chiaro e sincero. Sempre. Ma questo è proprio un mantra che tengo nella mia vita. Cioè, io cerco di essere sempre molto diretto nelle mie cose. Quindi, magari per qualcuno sarà difetto, per me è personalmente un pregio. Quindi, lo continuerò sempre a fare. E questo è, ragazzi. Io penso che la Salernitana meriti la salvezza. E oggi, comunque, sia la partita in cui non ha giocato bene, penso che la Salernitana vi ha messo tanto cuore e mi spinge ancora una volta di più a dire che per me la Salernitana merita la salvezza. Lo merita, nonostante abbia sbagliato il rigore. E mi dispiace, ripeto tanto, per Perotti. Io spero di essere stato chiaro, ragazzi. Perché veramente mi dispiace se poi uno pensa che io magari ho l'accanimento verso una squadra. No, non mi frega niente, ragazzi. Cioè, io dico semplicemente solo quello che sento e che penso. Punto. Basta. Detto ciò, ci aggiorniamo domani, ragazzi. Questo weekend sarà importantissimo. Quindi, ci aggiorniamo assolutamente domani. Io vi mando un forte abbraccio. Vivite e iscrivetevi al canale. Rifolete il verbo. Attivate anche le notifiche. Ma sì, esageriamo. E ci vediamo molto presto. Ragazzi, fate iscrivere amici, pareti. Dai, dai, che qui bisogna crescere. Dai, dai, bisogna arrivare ai mille qua. Dai, forza, forza, ragazzi. Siamo lottadissimi, lottadissimi. Dai, vi vado un forte abbraccio. Ciao, ragazzi.